benvenuti ciao sono qua per poter condividere con voi un brevissimo autotrattamento per il dolore alla cervicale tante volte noi quando arriva questo dolore è veramente una cosa molto molto disperante quindi per poter capire un attimo dove sono questi punti bloccati dovrei fare un auto ascolto quindi con i movimenti molto dolci giro verso la destra e sinistra col respiro abbasso leggeramente la testa con il mento verso il petto a lungo ok mento verso il tetto giù su per stimolare l'apertura delle vertebre a livello cervicale fatto questo andrò a lavorare sotto l'attaccatura dei capelli praticamente su questa zona sono punti molto molto importanti per poter individuare i punti di blocco quindi pollici in questo modo premo alla base del cranio e vado a cercare i punti dolorosi e un auto ascolto sono tre o quattro punti qua che bisogna lavorare una volta che l'ho trovato affondo i pollici sul punto doloroso e giro in cerchio posso spostarmi leggeramente verso l'esterno alla base del cranio poi con le dita in questo modo dal interno all'esterno faccio un leggero scolamento partendo dalla base dalla parte più alta in questo modo è un leggero scolamento sposto la pelle verso l'esterno in questo modo non mi serve l'olio perché la pelle è già lubrificata del suo quindi è molto più facile anche per prenderlo a modo di pinza faccio questo passaggio per tre o quattro volte fino arrivare a questa altezza sposto dall'altra parte faccio questo la presa deve essere molto decisa senza paura non fa male se lo fate correttamente fatto questo per due o tre volte dopodiché metto le mani ai lati delle vertere e faccio questo trascino dall'interno all'esterno in tutta la cervicale comodamente ok notarete che quando la energia si attiva arriva un caldo tutta la zona poi mi metto davanti e lavoro anche tutta la parte superiore proprio qua sotto della mandibola dovrei passare con i polpastrelli sul bordo della mandibola per poter allungare questo muscolo entrambi i pollici metto sotto il mento in questo modo e trascino la pelle uno due cominciò a accorciare il punto anche questo passaggio per tre o quattro volte perché su questa persona tutto è collegato una volta fatto questo metto le mani in questo modo e tiro leggeramente è quasi un sfioramento per essere più comodo anche la parte davanti passo così un gioco le spalle e poi lavoro con questa zona che sempre anche qua c'è tanta contrattura muscolare con il dito indice o il pollice vado a cercare qua c'è un puntino quasi a metà che è molto antipatico a volte praticamente è il colpevole di tutta questa contrattura a livello cerebrale come siete più comode o con il pollice o con l'indice per me è molto più comodo così ho anche più forza ci sono persone che magari riescono di più così anche qua affonda il dito qua e sentirei subito un caldo e alligerisce il peso di tutto il braccio eccomi fatto questo appoggio la mano qua e a modo di pinza tiro anche qua un scolamento vado dall'altra parte la stessa identica cosa o qua o con questo dito spesso lo trovo scolo ok gioco le spalle parte del pettorale con i pollici vado praticamente sulla parte delle coltè in questo modo vigito pressione questa è anche una zona molto sensibile anche molto calda quindi faccio due linee passo dall'altra parte così troverete dei punti che sono molto dolorosi soffermatevi lì con le mani così passiamo su questi due punti due linee che abbiamo appena stimolato e facciamo una sensazione di picchiettare così velocemente ok grazie alla prossima grazie 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 grazie